Dopo questo cappello, intanto sono felice di essere qua con diverse realtà che si sono mosse in maniera parallela, comunque che sono attive e stanno cercando di sensibilizzare la popolazione su questo tipo di problematica. La cosa da dire è che intanto mi pare che non ci sia appunto una percezione della popolazione che continua a assumere delle sostanze anche in maniera inconsapevole rispetto all'entità del problema. Io avevo fatto un paio di slide senza entrare nel non volevo essere pesante né tantomeno andare troppo sul tecnico nel problema. Volevo solo fare un cappello intanto sul tipo di sostanze di cui stiamo parlando, cioè stiamo parlando di sostanze chimiche e di sintesi, quindi che in natura non esisterebbero, hanno diverse caratteristiche, sono una macro famiglia con migliaia di sostanze diverse, ce ne sono alcune in particolari che sono state come ad esempio il PFOA e il PFOAS che sono state riconosciute come potenziali cancerogeni e comunque come sostanze inquinanti permanenti. Sono sostanze che sono presenti nei prodotti che utilizziamo tutti i giorni, quindi si parla di sostanze utilizzate per impermeabilizzare i tessuti piuttosto che rendere antiederenti le stoviglie piuttosto che schiumogeni per spegnere gli incendi sostanzialmente. Poi fanno parte anche di vernici e così via. Sono sostanze che sono ubiquitarie di loro, quindi in realtà ci accompagnano lungo tutta la nostra vita. Il problema è che c'è stata questa produzione, questi sversamenti che si sono localizzati in un'area ben definita soprattutto nel Vicentino che in realtà vengono coinvolte anche la provincia di Verona e la provincia di Padova e che rappresentano il quarto sito a livello mondiale come inquinamento, quindi stiamo parlando di zone altamente inquinate che comunque dimostrano dei livelli che normalmente non sono presenti in natura. L'altra cosa che volevo dire è che se comparissero delle tabelle, volevo far vedere degli studi che sono emersi perché fino adesso è sempre stato citato il dubbio sul fatto che causassero realmente delle patologie. Intanto qua c'è una mappa che va a riprendere le zone interessate dallo sversamento, quindi abbiamo la zona rossa che è quella che è interessata maggiormente con dei livelli più alti e poi via via si va con zone che al momento sono interessate in maniera differente, ma che appunto stiamo parlando come diceva Marzio di acqua, quindi è una situazione questa provvisoria, in realtà il fronte degli inquinanti si sta avvicinando e sta andando a coprire in maniera più importante, più omogenea comunque tutto l'ambito regionale a est di Vicenza sostanzialmente. E niente, fino adesso appunto questi sono i livelli di FAS presenti nel siero degli esposti appunto dell'US5 rispetto a dei valori di controllo e dei non esposti, quindi già vediamo qua che c'è qualcosina che non ritorna nella popolazione locale. Quindi una contaminazione in realtà c'è ed è in atto. Parliamo fra l'altro di sostanze che tendono ad accumularsi nell'organismo, hanno dei tempi di rimezzamento che sono anche abbastanza lunghi, quindi il fatto di continuare ad assumere fa sì che i livelli all'interno del nostro corpo stiano in continuo aumento. In più, nonostante ci cercassero di dire che sono sostanze che non causano in realtà malattie, ma più che altro perché non esistono degli studi fatti direttamente sull'umano, perché ovviamente non si può pensare di somministrare arbitrariamente a delle persone delle sostanze cui si sospetta la cancerogenicità o comunque che siano nocive. Quello che è stato fatto appunto è vedere gli esiti di contaminazioni che sono avvenute negli Stati Uniti per quanto riguarda lo stabilimento della DuPont, che mi ha permesso che ci fosse una contaminazione che ha interessato centinaia di migliaia di persone, per cui fra l'altro la DuPont è stata anche condannata, quindi sono stati riconosciuti i danni. Questi sono i parametri che abbiamo adesso per definirne la nocività. In realtà da un mese fa più o meno è uscito uno studio anche a livello di Regione Veneto come dimostra che in realtà prendendo delle aree ad elevata contaminazione come quelle per esempio del Vicentino rispetto a degli altri comuni, ad esempio ho visto che sono stati presi molti comuni della fascia pedemontana del Grappo, comunque sono zone che hanno uno stile di vita analogo, un insieme di patologie analoghe però che non presentano lo stesso fattore di rischio dovuto alla contaminazione da perfori archilati. Quindi è stato fatto un confronto fra queste due popolazioni e i risultati insomma hanno dimostrato che in realtà delle malattie stanno aumentando, quindi ci sono delle differenze sostanziali statisticamente significative fra queste due popolazioni di controllo. Se la grafica mi aiutasse appunto farei vedere queste tabelle, scusate se mi alzo un attimo, vedete intanto, scusate, le parti evidenziate sono quelle che hanno dimostrato degli aumenti che sono appunto statisticamente significativi, quindi sono stati dimostrati degli aumenti di mortalità per tutte le cause, diciamo quindi in generale la mortalità della popolazione è aumentata, ci sono stati appunto dei casi aumentati di patologie come il diabete, vedete abbiamo le malattie cerebrovascolari, abbiamo infarti del miocardio, quindi infarti cardiaci e un aumento anche dell'Alzheimer, questo quindi a livello sia di tutta la popolazione sia di uomini che di donne. Poi sono stati fatti anche degli studi per quanto riguarda invece il singolo sesso e ad esempio adesso sarebbe la depositiva successiva, vediamo un attimo, ecco questa qua, quindi questa dimostra la mortalità e le varie patologie per quanto riguarda le parti sempre contaminate e non contaminate riguardo ai due sessi, quindi vediamo che anche qua ci sono delle, qui stiamo parlando di uomini mi pare, no di donne scusate, quindi c'è un aumento della mortalità nelle donne per tutte le cause e un aumento di mortalità di riscontro di tumori al rene, si parla di tumori al seno, di diabete, anche qua malattie cerebrovascolari, infarto del miocardio e Parkinson. Nell'uomini cambia leggermente però sostanzialmente la situazione descrive un quadro abbastanza simile, quindi abbiamo una mortalità che in generale è aumentata e ci sono anche delle patologie fra cui dei tumori, delle neoplasie che risultano aumentate anche queste. Questo studio ovviamente non ci dice che sono gli FAS nel particolare a creare questi problemi, però ovviamente è la variabile principale che esiste fra queste due popolazioni prese in considerazione, quindi è verosimile insomma che anche in relazione agli studi che sono già stati fatti in passato che questa relazione ci sia e che appunto stia andando a uccidere sostanzialmente una popolazione che non può fare assolutamente nulla per tirarsene fuori perché appunto stiamo parlando di contaminanti che sono presenti al di là delle cose che utilizziamo per cucinare nella vita di tutti i giorni, che però sono contaminazioni che esistono a livello nazionale per cui ci sono dei valori nel corpo umano che in genere sono molto bassi. Qui stiamo parlando di patologie che vengono trasmesse appunto con l'acqua che viene bevuta ovviamente da tutti tutti i giorni e anche indirettamente attraverso la catena alimentare quindi ci sono gli stessi animali, le stesse colture che vengono irrigate piuttosto che gli viene dato a bere appunto l'acqua che deriva da zone contaminate e fa sì che lungo la catena alimentare queste lentamente arrivino a noi. Quindi a questo punto la cosa come spazio salute popolare che appunto è un'associazione qua di Padova con cui stiamo cercando appunto di fare qualcosa per far sì che venga sensibilizzata sostanzialmente la popolazione perché adesso non so quanti di voi avessero mai percepito che stessimo parlando di cose, io sinceramente non voglio fare l'armismo ma sono abbastanza preoccupato dalla situazione perché appunto i risultati ci dimostrano nonostante gli amministratori della regione, il governo regionale cerchi di dire che non sta succedendo niente di che, gli esiti a livello epidemiologico ci dimostrano che delle patologie in realtà stanno aumentando, non viene fatto granché per arginare il fatto che la contaminazione appunto e tantomeno viene bloccato lo sversamento a monte e quindi non vedo grandi vie di fuga sostanzialmente perché l'acqua appunto vuoi non vuoi dobbiamo berla tutti quanti e mangiare dobbiamo mangiare. Quindi sostanzialmente la cosa per me è cercare di appunto creare qualcosa, chiamiamolo movimento, chiamiamolo comunque una consapevolezza da parte della popolazione che c'è questo problema e che al momento le istituzioni non sembrano più di tanto interessate a volerlo risolvere. Quindi probabilmente appunto il fatto anche questi vari ambiti che sono presenti adesso che si occupano tutti della stessa tematica in maniere diverse se riusciamo a trovare un modo di cooperare tutti e in più coinvolgendo anche la gente, la gente comune dico che questa cosa la sta subendo sulla propria pelle magari qualcosina riusciamo a fare per smuovere su questa tematica per riuscire a smuovere qualcosa.